Il Vangelo della Domenica Commento a cura di Don Fabio Rosini Ventesima Domenica del Tempo Ordinario presenta ancora una volta il sesto capitolo del Vangelo di Giovanni nella sua parte più calda, nella sua parte più impetuosa lì dove Cristo dice chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e Dio in lui come il Padre che ha la vita ha mandato me e Dio vivo per il Padre così anche colui che mangia di me vivrà per me questo è il pane disceso dal cielo ecco, queste sono frasi tratte da quel Vangelo che viene introdotto da un testo del Libro dei Proverbi che parla di un invito la Sapienza costruisce la sua casa e prepara un banchetto e invita gli inesperti, i privi di senno ad andare a mangiare il suo pane a bere il vino che la Sapienza ha preparato è un'immagine molto bella della Sapienza di Dio che invita ad abbandonare l'insipienza, l'inesperienza, la stoltezza è andare dritti per la via dell'intelligenza ecco, la vita che si raddrizza la vita che diventa bella passa per l'accoglienza di un invito e a dire la verità quel che troviamo in questo Vangelo dove Gesù dice io sono il pane vivo disceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno è il pane che io darò e la mia carne per la vita del mondo ecco, non va ascoltato come una reprimenda sul dovere di fare la comunione o di andare a messa la domenica non è così pusillanime il discorso fatto da Gesù non è così legalista noi non vediamo l'ora di andare la domenica a messa noi andiamo ad un banchetto noi andiamo ad una cosa allegra e bella se siamo ridotti al fatto che dobbiamo costringere la gente sotto pena di obbligo a frequentare il Signore Gesù e cosa abbiamo fatto del Signore Gesù in realtà infatti questo testo non è un richiamo al dovere è un invito è un invito a un pranzo, a un banchetto come nella prima lettura, questo molto di più il Signore Gesù è quasi supplichevole ci invita con tutto il calore ci vuole, vuole che noi prendiamo di Lui ci si offre supplicandoci di crederlo supplicandoci di accoglierlo coloro che lo ascoltano non credono che Lui possa essere cibo perché noi questo proprio non lo pensiamo di Dio che sia per noi noi al massimo pensiamo di poter sopravvivere all'incontro con Dio ma noi abbiamo un'idea di Dio latente che sta lì prodotta dalle nostre paure che è un Dio greco, uno Zeus minaccioso che se ci parla di qualcosa è perché comunque ci farà le bucce ci metterà sotto esame e forse ci punirà e dovremo fare i conti con Lui invece qui c'è un altro tipo di realtà questo che è l'inviato del Padre questo che è il Messia questo che è la seconda persona della Santissima Trinità è un uomo che si offre come un dono che si offre come un cibo come qualcosa da assumere, da prendere ecco, come mai Gesù ci deve supplicare di assumerlo, di prenderlo perché l'uomo ha mangiato male prima perché noi abbiamo mangiato male perché noi dobbiamo abbandonare come dice la prima lettura l'inesperienza cioè noi non leggiamo secondo l'amore quel che Dio ci dice ma secondo i nostri traumi noi abbiamo dei traumi sull'amore ogni uomo ha delle delusioni sulla realtà dell'accoglienza e ha scoperto che in questo mondo fra gli uomini nessuno ti dà niente per niente e allora conseguentemente hai paura se Dio ti offre qualcosa che ti voglia far pagare in chissà quale maniera ecco, ma questo è il pane dei padri dice Gesù non è come quello che i padri vostri mangiarono e morirono un pane che non porta da nessuna parte il pane dei padri fa riferimento sicuramente anche alla storia dell'esodo ma fa riferimento proprio ai padri a ciò da cui noi nasciamo c'è un altro padre ci sono altre realtà c'è quella orizzontale di tutto il deludente dell'umano e c'è la potenza del padre celeste questo è il pane che il padre che ha la vita manda in Cristo perché anche noi abbiamo quella vita che viene da lui questo è il pane che ha l'eternità dentro questo non si inquadra non si mette dentro la nostra mentalità questo si accoglie come l'amore che si accoglie come l'amore che è sempre una sorpresa come l'amore che non ci meritiamo mai l'amore di Dio non ce lo meritiamo l'amore di Dio è più grande di quel che possiamo noi aver acquisito come diritto questo è difficile da accettare difficile sarà accettare che Cristo si offre come cibo a tutti noi il mondo non crede all'amore di Dio perché non crede alla gratuità forse anche perché noi cristiani mille volte non abbiamo presentato l'amore come una gratuità ma l'abbiamo presentato come un merito abbiamo presentato la realtà anche sacramentale tutto come una cosa per cui bisognava pagare essere all'altezza come una dimensione etico morale invece qui si tratta di scoprire l'amore di Dio da questo amore essere travolti essere portati amare non può essere un dovere deve essere una risposta non può che essere la gioiosa gratitudine di qualcuno che si è sentito amato non siamo stati noi ad amare per primi ecco che Cristo nelle Eucaristie ci ricorda chi è Lui davanti a noi è dono, è regalo, è offerta noi abbiamo latentemente paura di Dio abbiamo paura della Sua santa volontà perché vediamo in Lui esigenza e non offerta il giorno in cui ci abbandoniamo e finalmente accogliamo senza mettere le mani davanti senza scuotere le mani e rifiutare i regali accettando quel che Dio ci dà come un regalo ecco di colpo finalmente iniziamo a vivere secondo la nostra natura noi siamo deboli siamo fragili abbiamo bisogno di amore e Dio lo sa noi abbiamo bisogno di cura e Dio lo sa noi abbiamo bisogno di essere perdonati e Dio lo sa noi abbiamo bisogno di essere compresi, capiti, coccolati siamo poveri siamo piccoli non è vero che Dio ha qualcosa da chiederci Dio ha tanto da darci avete ascoltato il commento al Vangelo di questa domenica offerto da Don Fabio Rosini non è vero che Dio ha tanto da